Ormai i problemi nel quartiere sono innumerevoli, soprattutto la pulizia, cumuli di spazzatura, verde incolto, marciapiedi disconnessi, auto che transigono a forte velocità senza che il comune intervenga ponendo i dissuasori. Onestamente siamo stanchi, sono mesi che noi facciamo richieste e non abbiamo riscondo alcuno. Abbiamo fatto anche richieste propositive, l'amministrazione non solo ha accolto le nostre richieste propositive ma non ha elaborato soluzioni alternative. Noi siamo stanchi, i cittadini sono stanchi, arrivano centinaia di richieste per cui ci auguriamo che l'amministrazione prenda le provvedimenti altrimenti noi siamo pronti anche alle iniziative più clamorose per il bene del quartiere. Avete chiesto anche degli incontri, un confronto? Noi abbiamo sollecitato l'amministrazione inviando centinaia di richieste. Ci aspettavamo un riscontro, magari non dico un incontro perché capisco che gli impegni possono essere numerosi e le problematiche varie, però almeno un riscontro anche cartaggio alle nostre richieste sarebbe stato auspicabile. Non dando per noi comitato ma per rispetto dei cittadini che hanno creduto nella volontà di cambiamento, purtroppo questo cambiamento ad oggi non è arrivato. Qual è l'emergenza più importante che avete più volte denunciato? L'emergenza più importante sono i rifiuti, il fatto che non è stata fatta una deblattizzazione, una derattizzazione e quindi pulizia, sicurezza, sicurezza indesa non solo come sicurezza dei cittadini fisica ma anche sicurezza in senso lato, quindi il fatto stesso che i marci di piedi sono disconnessi e quindi i numerosi anziani purtroppo hanno problemi quando le ambulano. Noi abbiamo fatto numerose segnalazioni sia per la capitossatura degli alberi che per la messa in sicurezza degli stessi perché con gli ultimi eventi in particolar modo ci sono dei grossi rami che si sono spezzati e sono lì per cadere e quindi possono creare dei danni alle persone. Noi per carità non siamo contro la nuova viabilità perché non è compito nostro decidere questo, però perlomeno se si sceglie che una strada così piccola come Viaga Viaga venga interessata da due flussi di automobili, perlomeno installate una strada di vieti di sosta perché ci sono macchine parcheggiate a destra e a sinistra, due flussi di auto che entrano con l'ingolgo che creano, il pullman che non può girare, insomma è diventata una situazione un po' ingestibile. Noi facciamo la raccolta differenziata, però di notte, di mattina presto la gente prende le sacchette e le butta là, ma non è che possiamo noi. Ora io consiglierei al signor sindaco di mettere le secchioni come erano prima qua, così che i secchioni non si rubano perché c'è scritto comune di Gela e possiamo fare un pochettino di pulizia. Il problema dei randaggi è un problema che ormai si sta moltiplicando qua a Macchitella, legato essenzialmente alla presenza praticamente di rifiuti lasciati in maniera indiscriminata praticamente alla loro disposizione. Ogni sera praticamente, poiché buona parte dell'immondizia viene lasciata, non viene inserita all'interno dei cassonetti, dei bidoni perché sono presenti solo due o tre bidoni per la raccolta e non sono presenti i bidoni per la plastica, non è presente il bidone per l'indifferenziata, i cani fanno scembio.